Alcuni di voi arrivano al termine della settimana di allenamento e alcuni invece iniziano, quindi questo allenamento qui va bene sia per voi che terminate e per chi inizia, perché è benissimo partire dal capire come giocare a tennis, quindi come colpire la palla, sia a livello tecnico, cioè quale soluzione tecnica, se colpire piatto, top spin, alto o basso, quindi dal capire come giocare in certe zone del campo va bene sia per voi che terminate che per voi che iniziate il corso, perché poi dopo nei prossimi giorni andremo a vedere cosa migliorare a livello tecnico se da una certa zona del campo non riuscite a giocare in una determinata zona, quindi vedremo come costruire, vedete zona di costruzione, qui con Giacomo farete costruzione del punto, quindi Giacomo vi introduce questa materia, questa zona del campo, vi spiegherà come giocare da qui, come procurarvi una palla d'attacco e come chiuderla. Mentre nel mio campo, vedete le fasce? Voi dovete capire che da ogni zona del campo io devo interpretare la palla che mi arriva, secondo se è bassa, se è alta e cogliere l'occasione che mi si presenta qua, riconoscerla per cercare di attaccare e poi di chiudere il punto a rete. Cerchiamo di stimolarvi a questo, quindi a riconoscere le palle, le zone del campo e in automatico dare una risposta, perché poi deve diventare automatica la cosa, non ho tanto tempo, Roberto mi ha detto di alzare la palla, di giocare in diagonale da questa zona. Adesso chiaramente c'è il ragionamento, dopo tutte queste cose, sebbene allenate, devono venire spontanee. Lo scopo di questi allenamenti è proprio questo, farvi riconoscere le zone, le difficoltà da certe zone del campo. Quando siamo in difficoltà, chiaramente dobbiamo giocare sempre una palla che ci permette maggiore tempo di recupero, quindi non gioco un colpo rischioso in lungolinea, se sono qua gioco una palla alta, magari in diagonale o al centro, che mi permette di rientrare verso il campo. Se tecnicamente facciamo fatica a giocare in certe zone del campo i colpi che vi imponiamo di giocare, vediamo tecnicamente cosa possiamo migliorare. Quindi con Giacomo qua facciamo costruzione, attacco e chiusura e con me invece facciamo la parte della difesa, quindi lavoriamo sui colpi difensivi, quindi vi impongo delle situazioni difficili, quindi palla in recupero, gioco da una certa zona, quindi mettiamo questa è la zona del rovescio per chi è destro, rovescio profondo vi viene giocato, giochiamo un colpo in top spin alto se riusciamo, ok? Va bene? Qua la stessa cosa, alto. Un altro aspetto che cercheremo di farvi capire oggi, se arriviamo a colpire la pallina in diagonale, quindi facciamo uno spostamento molto ampio, va bene? Vediamo che funzioni, esatto. Arriviamo qua a colpire, giochiamo un colpo in diagonale e rientriamo non perfettamente in mezzo al campo, ma ci fermiamo leggermente di qua, ok? Perché la possibile, se io gioco in diagonale, il mio avversario dopo ha due possibilità, o rigiocare un diagonale o giocare un lungolinea, ok? Se io torno perfettamente al centro dopo che ho fatto un diagonale, lascio scoperta questa zona di campo, cioè la palla in diagonale del mio avversario andrebbe molto verso l'esterno, io avrei troppa distanza per raggiungerla, ok? Mentre su lungolinea, vedete che è più distante questa zona, questo colpo qua da raggiungere, quindi mi fermo qua. Il centro del campo non è mai il centro del gioco, dipende da che colpo vado a giocare. Se gioco da qua, ok? I colpi, le traiettorie del mio avversario possono essere o l'incrociato qua o il lungolinea qua, quindi rientro solo fino qui, ok? Vi stimolo anche questo, non tornate mai al centro perfettamente del campo se giochiamo in diagonale, ok? Ma torniamo e ci fermiamo leggermente da questa parte. Alcuni di voi lo faranno già in automatico, questo, alcuni magari non hanno mai pensato a questa cosa, ed ecco perché magari ci si sente in ritardo a volte sui colpi, no? Lo dicevo anche nell'ultimo stage. Voi vedete persone che magari non sono in perfetta forma fisica, ma giocano tanto tempo a tennis, quindi cos'hanno? Un ottimo controllo del campo, ok? Coprono bene il campo, sanno come piazzarsi, giocano, si piazzano a seconda di dove mandano la palla, intanto interpretano anche le vostre caratteristiche tecniche e già sanno più o meno dove arriverà la palla. Per quello che li vedete magari un po' sovrappeso, però arrivare bene sulla pallina senza delle grandi corse a destra e sinistra, ok? Avete notato che succede questo? Mentre magari gente corre a destra e sinistra, molto veloce, e magari non arriva sulla palla, perché era partito da una posizione errata. Vero Jack? Avete mai notato questa cosa? Bene, spero che questo consiglio possa essere utile anche a qualcuno di voi, a voi che mi seguite, se è così vi invito a mettere il like al video, ma anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. No, perché lui si piazza bene. Lui si muove lentamente, però con due... Cioè lentamente, tra virgolette, quando gioca al suo livello, quando gioca a un livello alto, cioè a seconda categoria, deve muoversi anche lui un po'. Però comunque... Io si spavano. Ok? Comunque ha sempre un modo... Se fanno il doppio di me, io arrivo sui palla. Comunque l'esperienza anche di dove piazzassi, di dove giocare la palla a seconda dove mi trovo, cerchiamo di farvi capire questa cosa qui, che è importante perché lo scopo... Voi giocate a tennis, in teoria alcuni di voi giocano anche per migliorare, per divertimento, eccetera, ma alcuni di voi vogliono migliorare il loro rendimento in partita. Quindi oltre a imparare la tecnica, abbiamo visto la videoanalisi, quindi lì parliamo di tecnica, cerchiamo di migliorare l'esecuzione del colpo, perché magari non abbiamo controllo, però una volta che abbiamo controllo, dobbiamo sapere dove giocare la palla. Dobbiamo capire che giocare una palla in una certa zona di campo è meglio con un effetto rispetto a un altro effetto. Seguite anche la nostra attività, se volete partecipare al nostro stage dal vivo, potete cliccare la scheda che vedete comparire qui in alto a destra. Nella descrizione del video, entrate sul nostro sito web. Troverete il calendario autunno-inverno 2022, ma anche primavera 2023 prossimamente. Alla prossima, Roberto. Ok, come vi ho detto già dal primo giorno, giocare sempre vicino alla rete non è un colpo oramai nel tennis moderno che ha una grande efficacia. Meglio giocare un po' più alto con la rotazione in top spin, di conseguenza la palla arriva più profonda e non do la possibilità agli avversari di comandare il gioco. Questo perché negli anni 80 le racchette di legno non permettevano questo e quindi si giocava un colpo molto piatto ed era più efficace un colpo vicino alla rete. Alcuni di voi sono rimasti, alcuni di voi adesso non in questo gruppo, però chi ha iniziato a giocare negli anni 70-80, anch'io ho iniziato lì, però comunque ho cambiato il mio modo di giocare perché ho sempre continuato a giocare. Molti invece giocavano in quegli anni lì, si sono fermati, arrivano adesso e dicono come andare su Marte? Perché sono cambiate le racchette, sono più veloci, quindi permettono gli effetti, una volta invece no e magari con le racchette moderne giocare piatto è controproducente perché si perde il controllo, la racchetta è troppo reattiva puoi provare a prendere proviamo con una racchetta proviamo con una racchetta di legno proviamo, ce l'abbiamo là dentro però ecco avete mai visto adesso che si usa come strumento didattico si usa quella paletta di legno l'avete mai vista? quel mattarello con è una stecca di legno la si usa per far migliorare che cosa? il punto di impatto il controllo è un manico di legno fate finta con sopra un dischetto di legno tutto un pezzo perché sennò si romperebbe e bisogna colpire centrando la palla ecco, esatto e bisogna centrare la palla ok, però giocare con una racchetta di legno ogni tanto non farebbe neanche male perché devi essere più preciso nel punto di impatto ok? è come andare in bicicletta con una bici di Gimondi e una bici di adesso ti alleni con quella di Gimondi e dopo con quella di adesso vai più veloce è vero? fai la stessa fatica ma vai più veloce dai andiamo in campo prima che piova